Buongiorno a tutti, mi chiamo Gabriele Amata, medico del Centro Isparia Milano. Per prevenire l'alopecia consigliamo sempre di seguire alcune buone abitudini, come fare attività fisica, prestare attenzione alla dieta, evitare l'uso di prodotti o tinture aggressive o concedure strette e utilizzare degli shampoo adeguati. Tuttavia una volta che la perdita di capelli si è verificata, il trapianto rimane l'unica soluzione definitiva per l'alopecia. Se siete preoccupati per la salute dei vostri capelli, prenotate una prima visita con i professionisti di Isparia.